Settimana scorsa mi sono arrivate alcune telefonate di credenti che hanno chiesto preghiera. Non a caso l'argomento stasera, veramente lo Spirito Santo ha preparato questa riunione. Queste persone mi hanno esposto problematiche importanti e sono persone che sperano nella preghiera. Hanno compreso che la vittoria, la risposta alla loro situazione può arrivare solo dalla preghiera. Come abbiamo pregato adesso è tutto basato sulla preghiera. Veramente dico lo Spirito Santo stasera ha preparato questa riunione e sono sicuro che la continuerà anche in questo progetto e in questi progetti che il pastore Cataldo sta portando avanti. La scorsa volta ho parlato di tre livelli di fede. Ho parlato della fede che è il mezzo accompagnato dalla preghiera al quale noi ci appropriamo delle promesse di Dio rivelate nella sua parola. Quindi abbiamo parlato di fede nel cuore, fede nella nostra bocca e fede nelle nostre azioni. Vorrei andare con la parola di Dio in Matteo 8,8. Ma il centurione rispose, signore io non sono degno che tu entri sotto il mio tetto ma di soltanto una parola e di il mio servo sarà guarito. Il centurione aveva compreso bene che il figlio di Dio è venuto sulla terra in soccorso dell'uomo ed è onnipotente, può ogni cosa, ama la sua creatura. Nonostante le mancanze, Gesù vuole soccorrerci. Ma per far sì che tutto questo avviene lui aveva realizzato una cosa che c'era bisogno di preghiera. Quindi dice io non sono degno ma ho bisogno di te. Gesù io non sono degno che tu entri sotto al mio tetto, io non sono degno che tu ascolti la mia preghiera ma io ho bisogno di te. E c'è fede. Io so che se tu parli Gesù, tu decreti una cosa, questo avviene perché tu sei Dio. Tant'è vero che Gesù ne fu meravigliato e disse in Israele non ho trovato una fede così grande. Questa dimostrazione di fede da cosa è arrivata, da cosa è scaturita, è scaturita da una preghiera, da una richiesta dove un uomo disperato ha aperto il suo cuore davanti a Dio. Tu dici ma perché mi stai dicendo questo? Come facciamo a pregare? Come facciamo a ricevere la risposta di Dio? Quello che posso dirti è che si impara a pregare pregando. Dobbiamo vivere questa costante, un allenamento. Abbiamo parlato di canali di preghiera, abbiamo parlato di luoghi di preghiera, la casa di preghiera, luoghi dove c'è sempre un'attitudine, c'è sempre preghiera, perché abbiamo compreso che la preghiera prende dal cielo. La preghiera porta la tua richiesta in cielo. Quindi questa è una relazione intima tra due persone. Chi sono queste due persone? Siamo noi personalmente, quindi preghiera personale, noi e Dio. Ripeto, è una relazione intima. 100% di preghiera produce 100% di successo. La preghiera è comunione tra il nostro spirito rinato e lo spirito di Dio che abita in noi. Noi arriviamo a Dio solo attraverso la preghiera. Gesù nella preghiera ci insegna a rivolgerci a Dio come figli. Tant'è vero che dice quando pregate dite Padre nostro. Questa è la realtà, il nostro essere figli è la nostra realtà in cielo e sulla terra. Noi siamo figli di Dio. Dio è mio padre. Io vorrei veramente che tu ripetessi insieme a me Dio è mio padre. Voglio considerare con voi tre livelli di preghiera. Visto che siamo in tenema e abbiamo detto un po' tutto, mi sento anche, come dire, piccolo nel dire queste cose, però sono nello stesso momento anche onorato. Ci sono tre livelli di preghiera. Il primo livello è Dio, il secondo livello siamo noi e il terzo livello sono gli altri. Guardiamoli un attimino. Il primo livello è Dio quando la nostra preghiera è un atto di gratitudine, di lode e di adorazione. Quindi noi ci affacciamo, noi interagiamo con la persona di Dio con queste attitudini, quindi rendendo grazie con grande gratitudine, lodando il suo nome, innalzando il suo nome e adorando. La differenza è che, come ho detto, nella lode noi esaltiamo e glorifichiamo, ma nell'adorazione noi abbiamo un ulteriore passaggio. Nella relazione noi entriamo nel luogo santissimo. Noi entriamo in una presenza intima ed intensa. Quindi il passaggio, andiamo un attimo a leggere il passaggio in cui Gesù parla alla donna samaritana. Lo troviamo in Giovanni 4, 23-24. Gesù fa questa affermazione vicino a questa donna. Se la regia magari può mettere i versi. L'ora viene, ma l'ora viene, anzi è già venuta, che i veri adoratori adoreranno il padre in spirito e verità, poiché il padre cerca tali adoratori. Un'altra versione, una versione amplificata, dice adoreranno il padre in spirito e realtà. Quindi la verità e realtà è l'opposto della falsità e della menzogna. E quindi noi dobbiamo adorare il padre con tutto nei stessi. dobbiamo adorarlo con realmente, con un cuore completamente aperto alla sua presenza. Poiché il padre cerca tali adoratori. Il padre sta cercando adoratori veri. Dio è spirito e bisogna che coloro che l'adorano, l'adorano come scritto, il spirito è realtà, è verità. Il luogo dell'adorazione è il nostro spirito. Quindi il luogo dove tutta l'adorazione nostra, tutta l'apertura deve essere nel nostro cuore, nel nostro spirito. La parola usata in greco è proscuneo, che vuol dire adorare. La stessa parola viene usata anche altre volte, in riferimento a Gesù, che dice che Gesù bisogna che sia adorato viene usato la parola proscuneo. Questo lo dico magari per coloro che sono sotto attacco di confusione da parte di qualche setta che nega la stessa adorazione del padre anche al figlio. Tutte le versioni traducono proscuneo. Quindi noi adoriamo Dio padre e Dio figlio, perché entrambi sono degni della nostra adorazione. Li adoriamo a prescindere dalle nostre situazioni, se stiamo bene, se stiamo attraversando un periodo di difficoltà, se stiamo attraversando anche delle tempeste. Noi continueremo ad adorare Dio in spirito e verità, con tutti noi stessi. Quindi il primo livello è la base del nostro rapporto con Dio. Senza questo non ci può essere relazione. Quindi la base della preghiera è l'adorazione e la lode e la gratitudine a Dio. Il secondo livello di preghiera invece è noi stessi. Che vuol dire? Vale a dire che noi portiamo le nostre richieste a Dio. Se abbiamo delle aree contaminate, dobbiamo chiedere perdono e aiuto. Sappiamo che Dio è amore, che se noi dichiariamo e confessiamo i nostri errori, i nostri peccati, Dio ci ama come un padre. Non ci negherà mai il suo favore, il suo perdono. Quindi noi facciamo questa richiesta a Dio, ci dobbiamo affidare a Dio, dobbiamo portare i nostri pesi e ci dobbiamo consacrare, ci dobbiamo sottomettere completamente alla persona di Dio. Vorrei leggere con voi Romani 8,26. Se la regia parte con i versi. Ok, perfetto. Allo stesso modo ancora, lo Spirito viene in aiuto alla nostra debolezza perché non sappiamo pregare come si conviene, ma lo Spirito intercede egli stesso per noi con sospiri ineffabili. Qui ho anche un'altra versione dove dice lo Spirito viene in aiuto e ci sostiene nella nostra debolezza perché non sappiamo pregare, qui dice non sappiamo come offrire, quindi vediamo che la preghiera è un'offerta, è un'offerta che noi portiamo davanti all'altare di Dio. come si conviene, cioè come offrire degnamente. Noi non sappiamo come offrire degnamente, ma a questo punto chi interviene? Interviene lo Spirito di Dio che è nel nostro cuore. Lo Spirito di Dio va incontro alla nostra supplica, egli stesso intercede per noi con sospiri ineffabili. La versione amplificata dice con sospiri troppo profondi per essere pronunciati. Bellissimo. Quindi quando noi non riusciamo più ad avere parole nostre, la nostra attitudine deve essere quella di mettersi in preghiera e in spirito. Facciamo parlare in lingue lo Spirito di Dio che è dentro il nostro cuore. Facciamo adorare lo Spirito Santo al nostro posto, perché dice che Lui ci sostiene e interviene nelle nostre debolezze. È Lui che intercede per noi. Quindi è Lui che prende la nostra preghiera, che conosce i nostri bini sogni, che conosce le profondità del nostro cuore e le porta davanti al trono di Dio. Quindi dobbiamo dare spazio a Lui. Egli intercederà per noi, porterà le nostre preghiere, i nostri bisogni, dirà cose molto profonde che non possono essere pronunciate. Io quando leggo questo immagino che lo Spirito di Dio parla al mio posto, prende possesso nel regno di Dio. Il mondo spirituale, il mondo di tenebre, sarà confuso. Perché? Perché non conosce le lingue e le profondità di Dio. Lo Spirito Santo ha le chiavi del regno. La persona dello Spirito Santo che dimora nel nostro cuore, che ci porta in preghiera, ha le chiavi del regno. Quindi voglio darti questi consigli. Il primo consiglio identifica le tue necessità. Abbi proprio la mente libera e identifica quali sono i tuoi bisogni e le tue necessità. Il secondo consiglio è cerca nella parola di Dio. Non abbandoniamo mai la parola di Dio perché una vera preghiera procede sempre dalla parola di Dio. Una vera preghiera procede sempre dall'aver compreso, dall'aver avuto relazione e rivelazione della parola di Dio. Quindi cerchiamo nella parola di Dio le sue promesse e cerchiamo di portare riscontro a quelle che sono le nostre necessità. Quindi cerchiamo quelle promesse mirate per le nostre necessità. Il terzo consiglio è presenta la tua richiesta a Dio. Inizia ad esporla. inizia ad esporre la tua richiesta a tuo padre. Il quarto è credi, devi credere con fede, devi credere con realtà, con verità nella risposta di Dio perché la fede è il mezzo che si appropria della promessa di Dio. Ripeto, la fede si appropria della promessa di Dio, delle sue promesse, delle promesse che Dio ha dichiarato nella sua parola. Il quinto consiglio è parla e agisci in accordo con la fede. Ciò che tu credi, proclamalo e lo otterrai. Il sesto, ed è molto importante come diceva il pastore Cataldo prima, rifiuta il dubbio perché esso ruba le tue benedizioni. Rifiuta il dubbio perché ruba le tue benedizioni. Il settimo è mantieni viva la promessa. Scambiala con il tuo problema. Prendi la promessa di Dio e mettila al posto del tuo problema. L'ultimo e ottavo consiglio è loda Dio perché la lode rinforza la fede. La lode libera il miracolo di Dio. Voglio andare al terzo livello, quindi abbiamo detto che il primo è la lode e l'adorazione, quindi è Dio al centro. Il secondo è sempre Dio al centro, ma noi portiamo, non siamo specificamente solo per il piacere di adorarlo, ma questo dovrebbe essere sempre l'attitudine di ognuno di noi, ma siamo anche per portare una richiesta a Dio, una richiesta personale. Il terzo livello invece è quello per gli altri, quindi da intercessori. Abbiamo parlato stasera anche di questo. Quindi se andiamo a leggere i Romani 8,34, sempre con l'aiuto della regia, chi li condannerà? Gesù Cristo, Cristo Gesù, è colui che è morto e ancor più è risuscitato, ed è alla destra di Dio ed anche intercede per noi. L'altra versione dice è risorto dai morti, ed è alla destra di più, ed anche intercede al presente per noi. Quindi Gesù in questo momento sta intercedendo per noi. Non parla al passato o al futuro, parla al presente. Gesù intercede per noi. Io ho avuto una bellissima esperienza una volta, sarò breve, dove veramente ho avuto un periodo da credente, di non so, mi sentivo così attaccato terribilmente, quasi da attacco di panico. Ed ero disperato perché dissi, signore, sto pregando in tutti i modi, ma non vedo la tua risposta, sento questa oppressione. E lo Spirito Santo mi portò alla mente e nel cuore quel passo dove Gesù dice vicino a Pietro, Pietro, Satana ha chiesto di vagliarvi come si vaglia il grano. E io mi sentivo così, ma io ho pregato il Padre. E io in quel momento ho iniziato a dire, Gesù, adesso io ho fatto tutto quello che potevo, adesso voglio che tu intercedi per me, inizi a pregare per me. E vi posso dire che quella è stata una preghiera potente. La risposta è arrivata subito. Quindi ricordati le tue preghiere, le mie preghiere, le nostre preghiere, ma quando preghi ricordati che Gesù è alla destra di Dio ed intercede per te. Intercedere significa mettersi al posto di un altro. E Gesù per eccellenza è l'intercessore, come abbiamo letto in Romani, ma anche in Timoteo è scritto che Lui è il mediatore tra Dio e l'uomo. Quindi anche noi, come sacerdoti, dobbiamo metterci al servizio degli altri. Ci dobbiamo mettere al servizio degli altri come intercessori. Infatti nella scrittura troviamo che Gesù dice pregate gli uni per gli altri. A Gesù questo piace, a Dio questo piace, che noi ci rafforziamo a vicenda, che noi preghiamo per gli altri, perché questo è amore, questo è compassione. E proprio questi progetti televisivi, radiofonici, di luoghi di preghiera nascono proprio per un'attitudine per il prossimo, per coloro che sono nel bisogno. Dio chiama la sua chiesa, il suo popolo, a praticare l'amore. Servire con la preghiera, come abbiamo letto, perché pregare è servire, mettersi a disposizione di chi ha bisogno o di chi è debole, a Dio questo piace e Gesù ci invita a farlo. Quindi allo stesso modo di Gesù anche noi dobbiamo collocarci davanti a Dio a favore dei bisognosi. Come Gesù ha dato la sua vita per amore, così anche noi siamo chiamati ad amare il nostro prossimo e a dare al nostro prossimo. Quindi la compassione che fa mette in moto la preghiera e la potenza di Dio. La compassione che è nel nostro cuore mette in moto la preghiera e la compassione di Dio. Non voglio andare oltre per non rubare troppo tempo perché il tempo è limitato, quindi abbiamo detto pregare Dio per la gioia di stare solo alla sua presenza, adorarlo stando anche in silenzio e ad ascoltare la sua voce, lasciandoci guidare dal suo santo spirito. Abbiamo parlato di preghiera per i nostri bisogni e abbiamo parlato di preghiera per gli altri come intercessori e vorrei concludere con questo passaggio nel Fesini 6, 10, 11. Del resto fortificatevi nel Signore e nella forza della sua potenza, rivestitevi della completa armatura di Dio affinché postiate stare salvi contro le inside del diavolo. Quindi del resto fortificatevi nel Signore, sii rafforzato attraverso la tua unione con Lui. e nella forza della sua potenza, rivestitevi, cioè rivestitevi della completa armatura, indossa l'altra versione, l'amplificata dice indossa l'intera armatura di Dio affinché puoi resistere con successo contro le insidie, dice invece le strategie e gli inganni del diavolo. Quindi strategie e inganni come insidie. Quindi Dio ci invita a rivestirci dell'armatura che Lui ha preparato per noi. Questa armatura Dio l'ha preparato per il suo popolo. È un'armatura divina, è un'armatura spirituale, la quale ci permette di essere protetti nella battaglia con del grande nemico di Gesù Cristo, che è il diavolo, Satana. Ok? Quindi il messaggio che stasera voglio trasmettervi da portarci a casa è questo. Che nella preghiera e spirito, ripeto, nella preghiera e spirito, nella preghiera del nostro cuore, nel nostro intimo, noi riceviamo le chiavi del regno. Dio vi benedica. Vorrei pregare un attimo con voi. Padre Santo, io ti voglio ringraziare in questo momento, ti voglio ringraziare per ogni ascoltatore. Abbiamo parlato di preghiera, abbiamo parlato di fede, abbiamo parlato di amore. Dio ti chiedo veramente di intervenire perché fuori c'è tanta gente che soffre, c'è tanta gente che ha il cuore rotto e purtroppo questa è una realtà che è presente anche per i credenti, Dio. Io veramente voglio, come diceva il pastore Cataldo, voglio chiamare un risveglio su tutta la nostra razione, un risveglio basato sui tuoi principi, sulle tue promesse, un risveglio vero, un risveglio che possa portare liberazione nei cuori, che possa portare pace. È vero, a volte siamo nelle tempeste, ma anche in quelle situazioni noi possiamo trasformare le tempeste in promesse, nelle promesse di Dio, Dio. Veramente riempici del tuo spirito e consolaci perché abbiamo bisogno di te. Io voglio chiamare un tempo nuovo, fa che queste nostre preghiere, che questi nostri studi, che queste nostre prediche possono arrivare veramente nella profondità di coloro che sono nel bisogno, che hanno il cuore aperto, Dio, possano ricevere da te, possano gustare che tu sei un Dio buono, perché Dio tu sei buono. Io ti voglio ringraziare, Padre, nel nome di Gesù. Amen. Grazie.